Verde, carta e cartone, umido, vetro, legno e plastica sono i rifiuti merciologici più differenziati in Emilia-Romagna e grazie ai quali il dato in Regione viaggio appena sotto il 65%. Emiliano-Romagnoli sempre più virtuosi nella raccolta differenziata che colloca la Regione tra i primi posti in Italia. A dirlo sono i numeri presentati dall'assessore regionale dell'Ambiente Paola Gazzolo e dal presidente Stefano Bonacini che hanno parlato di un territorio attento alla tutela dell'ambiente. Stiamo rispettando gli obiettivi fissati dal piano regionale, hanno spiegato. A livello provinciale chi ha fatto registrare la maggior crescita sono Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Seguono, Modena e Bologna. Rilevante è stata l'applicazione della tarifa puntuale. Datti incoraggianti, importanti, nel primo anno, il 2017, di applicazione piena del piano regionale dei rifiuti. Parliamo già di un incremento del 2,5% della raccolta differenziata. Siamo arrivati nel 2017 al 64,3% con dei territori che investono in questa direzione con i loro cittadini, a partire chiaramente dalla volontà dei comuni. Parliamo di comuni, oltre 1 su 3, 107 comuni, quindi possiamo dire 1 su 3, supera già come raccolta differenziata il 73%, che è l'obiettivo che ci siamo dati col piano regionale dei rifiuti al 2020 e laddove viene introdotta la tarifazione puntuale si raggiungono picchi che arrivano anche al 90%. Tra questi comuni, a farla da padrone, sono del modenese, in particolare quelli colpiti dalla terremoto del 2012. A Camposanto, San Posidonio, San Felice, Sul Panaro, Cavezzo Nuovi di Modena e Concordia, si è superati il 90% di raccolta differenziata. Un discorso a parte merita invece Bologna. Con il Comune di Bologna stiamo sviluppando un progetto condiviso su cui la Regione ha destinato oltre 4,6 milioni del piano di azione ambientale proprio per trovare le modalità con cui raggiungere esattamente l'obiettivo che abbiamo dato alle città capoluogo, che è quello del 70% al 2020.